Evgeni Starodubzev, 36 anni, russo e il vincitore del 19esimo concorso pianistico internazionale Premio Mauro Paolo Monopoli. Al Teatro Curci di Barletta il concerto dei finalisti del prestigioso concorso accompagnato dall'orchestra filarmonica pugliese diretta dal maestro Giovanni Minafra. Un evento organizzato dall'Associazione Cultura e Musica Curci in collaborazione con il Comune di Barletta, la Regione Puglia, il Ministero dei Beni e le Attività Culturali, la Buzzi Unicem, la Fondazione Megamark e la Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia. Sono veramente soddisfatto di questa edizione sia del 26esimo concorso internazionale per giovani musicisti di società di Barletta che ha visto partecipanti provenire a Barletta da 57 nazioni e sia di questo premio Mauro Paolo Monopoli, giunto quest'anno alla 19esima edizione, che ha visto un livello veramente straordinario e lo testimoniano i due finalisti, Kosciomai e Vecchini Sarodupsev, due solisti straordinari che questa sera in questo incredibile concerto con la nostra orchestra filarmonica pugliese diretta da Giovanni Minafra hanno entusiasmato il pubblico. Io penso che conclusione più dire di questa non potesse esserci sia per i concorsi musicali e sia anche per la stagione di grande successo che quest'anno abbiamo avuto al Teatro Comunale e che ha visto davvero degli spettacoli che hanno fatto registrare quasi sempre il tutto esaurito il successo di pubblico e di livello, dall'orchestra di Piazza Vittorio alla Tosca, a Sollima, ai musical per cui il Teatro Curci ha vissuto quest'anno una grande stagione di musica e questi giovani talenti sono il futuro della musica per il quale noi ci impendiamo a lavorare sempre, non solo per oggi ma per il futuro. Evgeny Starodugsev, che ha vinto anche il premio speciale del pubblico ha eseguito il concerto numero 4 in Sol Maggiore, opera 58 di Beethoven al secondo posto Maiko Shio, 25 anni, giapponese che ha eseguito il concerto numero 1 in Don Maggiore, opera 15 di Beethoven quarto premio ad Anastasia Iasko, 25 anni, russa sesto premio a Pavel Zemen, 24 anni, della Repubblica Ceca premi di merito a Ludwig Rehl, 18enne tedesco, Inuo Wang, 20enne di Pechino e alla 34enne Saori Toyama grazie a tutti per la visione